Ben trovati ad Alimenti Ferma a Tempo, la nostra trasmissione è promossa da erbe medicali qui con me come sempre Gian Paolo Tocco delle Onde. Buonasera Gian Paolo. Ben ritrovati. Dunque, l'autunno ormai è arrivato, dobbiamo farcene una ragione, anche se comunque è una stagione meravigliosa con dei colori davvero fantastici. Nascono persone meravigliose in questa stagione. Esatto, sì, tra poco è il suo compleanno, insomma. Però diciamo che si porta con sé anche alcuni malanni, tipici appunto di questa stagione, un abbassamento a volte anche abbastanza repentino delle temperature come è avvenuto anche quest'anno. Purtroppo ci fa cominciare, diciamo così, ad avere qualche piccolo disturbo. Però ci sono degli ottimi rimedi naturali. Sì, ottimi. Allora, l'autunno è meraviglioso per i colori, per la nuova vita. Si esce un po' dall'estate, si comincia le castagne, si sta un po' più a casa, si raduna, si chiacchiera, si cambia un po' il ritmo della vita. Ma lo sbalzo di temperatura, l'abbassamento della temperatura, dà una forte botta al sistema immunitario. Perché basta un gap, basta uno sbalzo di 4 o 5 gradi per mandare in tilt il nostro sistema immunitario. Già accade d'estate, no? Aria condizionata, caldo fortissimo, umidità, di nuovo aria condizionata. Quindi anche d'estate abbiamo i nostri acciacchi. In autunno è più naturale, cioè è il tempo. Lei si mette al sole adesso e a caldo, si mette all'ombra e comincia ad avere freddo. Questi sbalzi di temperatura mettono in difficoltà il sistema immunitario. In più, il freddo aiuta e agevola, ma è logico, no? Perché sembra che... Io parlo da erborista sempre, non parlo mai da medico, non parlo da biologo, però ci lavoro con i medici. Prendo ordini dai medici e dai biologi. Mi dicono le loro esigenze, mi spiegano il motivo e non essendo totalmente cretino, in 40 anni magari qualcosina hai capito, hai imparato, anche perché devi mettere loro a disposizione armi efficacissime. Quindi, essendo un curioso, voglio sapere i meccanismi, voglio sapere il nemico che devo combattere, di che natura è, come si sviluppa, eccetera. Questa curiosità mi ha portato a capire e a conoscere quello che tantissime persone conoscono, altre meno perché sono meno interessate, perché non fa parte del loro bagaglio culturale. Un virus e un batterio, con l'abbassamento della temperatura, è in paradiso. Ed è logico, perché se lei pensa che l'organismo per combattere un batterio, per combattere un virus, per combattere un processo infiammatorio o un processo infettivo, determina, fa insorgere la febbre, cioè alza la temperatura corporea. Questi 38, 38 e mezzo, 39 gradi, 40 gradi, è una risposta del sistema immunitario ed è una risposta complessa, non solo del sistema immunitario, è una risposta geniale, intelligente dell'organismo che portando a 38, 39, 40 gradi la febbre, la temperatura, mette in difficoltà il batterio, il virus che a quella temperatura soffre e muore. Ora, d'estate è più difficile incorrere in naturali malattie infettive da virus e da batteri, perché la temperatura è già altina, una temperatura presa ad una persona in spiaggia sotto il sole supera di gran lunga i 38 gradi, in autunno di colpo il nostro organismo si ritrova a dover vivere in una temperatura di 10, 12, 15, 20 gradi, dai 30 ai 10, 12 gradi, 8 gradi. Questo da una parte ambientale favorisce lo sviluppo e la vita di virus e batteri che hanno il loro diritto di vivere e hanno il loro buon motivo che torna utile anche a noi, senza batteri saremo perduti, morti, però ci sono anche i farabuti, i batteri patogeni, i cattivi. Allora loro si sviluppano e noi dobbiamo avere organicamente quella capacità di arginare, fronteggiare e allontanare, uccidendoli purtroppo, questi batteri cattivi. Per mettere in condizione l'organismo noi dobbiamo avere uno stile di vita e una alimentazione corretta. Siccome io, pur alimentarista, ma non sono un dietologo, anche perché la dieta personalizzata va data dalle persone esperte ed è individuale, non si può generalizzare, ma ci sono alimenti di base che sono la colonna portante della salute, lì in quella nicchia di sanità ci siamo infilati noi, cioè i prodotti che di base per tutti sono essenziali per dare all'organismo quella forza, quella tenacità, quella capacità di risposta agli attacchi autunnali del freddo, del virus, dei batteri, degli stati infiammatori, raffreddore e influenze. Ecco dunque, dicevamo, rimedi naturali, noi qui chiaramente in questa nostra trasmissione trattiamo esclusivamente di tutto ciò che la natura ci offre e come tralasciare il nostro prodotto principe, ovvero questo usa redberry, cranberry, mirtillo rosso, palustre selvaggio del nord del Canada che lei ha casualmente incontrato, diciamo così tanti anni fa e che è stato così trasformato in una compressa che è comunque un preparato alimentare che viene consigliato a tutti. Viene consigliato a tutti perché intanto è selvatico, intanto è nostro, i terreni sono nostri, noi non compriamo per quanto la curcumina la dobbiamo comprare. Il cranberry è una magia che più di 25 anni fa io ho incontrato in Canada, mi ci sono buttato con tutto, entusiasmo, denaro, tempo, ricerca, effettivamente ha dimostrato di essere qualcosa di straordinario, molto più del cranberry di coltivazione che è già una cosa meravigliosa, ma il selvatico ha una concentrazione in minerali, vitamine, antiossidanti ineguagliabile. Purtroppo la produzione è un po' pochina, di fatti periodicamente siamo carenti di prodotto. Adesso abbiamo trovato… Il momento della raccolta poi tra l'altro questo, il mese della raccolta, l'autunno appunto coincide con il momento in cui voi portate a casa appunto questo mirtillo selvaggio. Questo è il momento della raccolta, quest'anno è leggermente anticipata perché l'estate e l'autunno è stato particolarmente favorevole, quindi in ottobre c'è la raccolta, purtroppo essendo stata anticipata io non riesco ad andare in Canada, quest'anno ma ci andrà il mio socio a seguire tutte le operazioni, ma soprattutto andrà a visionare e a concludere l'acquisto di alcuni terreni che sembra abbiano un… che hanno mirtilli selvatici, hanno cranberry selvatici e questo è appurato, anche in discreta quantità, ma avremo bisogno di un paio di mesi e faremo dei filmati, ho chiesto all'ingegnere Rossi e a Stefano di fare dei filmati perché poi li vedremo insieme. Io voglio che venga raccolto questo mirtillo selvatico, lo dobbiamo portare a Verona dalla Specchiasol dove insieme a noi faremo delle analisi per capire se lo standard qualitativo è pari al mirtillo selvatico che già stiamo lavorando. E questo è un processo che avviene ogni anno? Questo è un processo che avviene ogni anno perché noi ogni anno dobbiamo sapere il grado di concentrazione in maniera da… dovremmo calibrare, ma siamo fortunati, ogni anno noi abbiamo, forse perché rispettiamo i terreni, non siamo mai intervenuti mai in alcun modo sforzando i terreni, favorendo per esempio lo sviluppo o l'aumento di produzione, mai e ogni anno noi abbiamo piccola percentuale in aumento di concentrazione di principi attivi, quindi è un miracolo, è un premio probabilmente che la natura mi dà per il rispetto che io ho avuto in questi 25 anni nei confronti di quei terreni. Questi nuovi sembrano pari come quantità e come qualità. Ecco, la parola magica è proprio principi attivi, perché lo sappiamo che sul mercato, lo ripetiamo sempre, troviamo tantissimi prodotti, però ciò che fa la differenza è proprio questo. Eh sì? Allora, in origine ci sono cranberry ricchi e poveri di principi attivi, ma poi è la lavorazione che mi fa distruggere gran parte delle proprietà organolettiche di questa bacca. Noi abbiamo preso un premio internazionale per la trasformazione, per la qualità iniziale del prodotto, ma soprattutto per la capacità di trasformazione tale da mantenere inalterate tutte le proprietà di questo cranberry. Tutti i principi attivi, tutti i minerali, tutte le vitamine, tutti gli antiossidanti e soprattutto quella grande capacità di antiaderenza batterica che il cranberry offre. Antiaderenza batterica. Significa che il batterio che entra nell'organismo anziché essere ucciso da un antibiotico, semplicemente a questo batterio non viene consentito di, non viene permesso, viene messo in difficoltà perché il batterio si deve aggrappare ad una parete e proliferare. Quindi non trova un terreno favorevole. Non trova un terreno favorevole, scivola via, frena ma slitta via e lo eliminiamo con la minzione, con la pipì. Questa è una cosa fantastica in autunno. Oltre ad essere un digintossicante, un depurativo, un drenante di liquidi in eccesso, un antiadenente batterico, un ringiovanente, un aiuto cardiovascolare, l'abbiamo detto mille volte, ma continuiamo a dirlo perché quotidianamente vediamo la scienza confermare quello che noi continuiamo a dire da 25 anni. Oltre a questo c'è da dire che avendo questa grande azione antiossidante e avendo un mix di antiossidanti particolarmente completo ed efficace, ripulisce il nostro organismo e la membrana cellulare, ripulendola da questa ossidazione, la membrana lipidica della cellula viene ripulita da questa ossidazione e si consente alla cellula di svolgere le proprie funzioni, tutte le cellule del nostro organismo. Quindi possiamo dire che c'è una sorta di ringiovanimento generale? Ringiovanimento e rafforzamento organico, però in autunno già è sufficiente perché noi lo vediamo in questi 25 anni, noi abbiamo tanti clienti con i quali parliamo, le ragazze che mi aiutano, mia moglie, tutti abbiamo un rapporto diretto con il nostro cliente, con il nostro assistito perché non è un paziente, i medici hanno i pazienti, gli erboristi, i naturopati hanno assistito, noi assistiamo, abbiamo un rapporto diretto, raccogliamo i feedback, raccogliamo le loro impressioni. Su 22 mila clienti dire che ce ne siano 4, 5 in 25 anni, tutto dimostra quello che diciamo, chiunque ci può dire non ci credo, voglio le dimostrazioni, voglio le dimostrazioni di quello che dici. Siccome la nostra azienda è certificata e in azienda ci sono ingegneri che non hanno nulla a che vedere con la biologia, con la naturopatia, con l'erbo, niente, sono ingegneri statistici perché voglio avere sotto controllo la mia piccola azienda, deve essere di altissima qualità. Grazie a loro noi abbiamo dei sistemi, dei grafici che ci dicono la qualità del prodotto, l'andamento delle vendite, la soddisfazione dei clienti, l'insoddisfazione dei clienti, è un dato l'insuccesso, è un dato che deve essere esaminato perché deve capire se è riparabile, se è un danno strutturale, il prodotto fa schifo, noi non siamo bravi a presentarlo, noi non lo spieghiamo bene, e il cliente è insoddisfatto. Sei destinato a chiudere o devi diventare un furbacchione? Io questa fatica non la voglio fare, io voglio un'azienda che funziona, quindi ho quasi più attenzione ai casi di insoddisfazione che a quelli di soddisfazione. In 25 anni e con 22 mila clienti, 23 mila clienti, noi forse abbiamo 4 o 5 casi di persone che hanno detto ma io non sento, non ho avuto risultati e la nostra domanda, la domanda che noi imponiamo alle operatrici è che problemi aveva e che problemi non ha risolto e anche in questi 5 casi che sono niente, ma sono importantissimi. La risposta è tipica, no, io stavo bene, però non vedo risultati, ma che risultati voleva? L'energia c'è, da due anni non piglia influenze, pretendeva di diventare più giovane, più alto, più bello, più ricco, allora quando ci si aspetta l'impossibile, ecco il cranberry non lo dà, quando ci si aspetta energia, percentuale di malattie di qualsiasi tipo che crolla, perché per due anni non vedi il medico e non prendi farmaci, per me è già un risultato ottimo, se poi ripeto l'aspettativa va oltre o mi aspetto chissà che, forse deludo, ma deludere 5 clienti su 23 mila è un successo straordinario. Però tante testimonianze positive le avete avute da numerose persone, soprattutto donne, che avevano questo classico problema che è quello della cistite recidiva e che chiaramente nei casi in cui siamo nella fase acuta è necessaria la terapia antibiotica, ma dopo di che, lo sappiamo benissimo, l'antibiotico non può essere ripetuto per più volte durante l'anno. Esatto, perché porta a una farmacoresistenza il batterio. Allora, la prima cosa che ci dicono le donne quando ci chiamano, sì ma guardi io ho già provato il cranberry, non ho avuto grandi risultati. Allora, non per fare il bravino o per denigrare altri prodotti, però è normale. il cranberry è efficace. Se nel prodotto che ha assunto non c'è cranberry o ce n'è quantità minima o i principi attivi sono stati distrutti nella fase di trasformazione, è normale, ma allora non è il cranberry che non funziona, è il prodotto che hai comprato che non funziona. Provi il nostro cranberry. Noi facciamo anche, lo facciamo ancora oggi, delle promozioni particolari, adesso non stiamo facendo marketing, dico per far capire come si muove la mia azienda. Noi facciamo delle promozioni particolari proprio per le persone che hanno il diritto, senza avere un esborso importante, di provare il prodotto per capire se funziona o non funziona, perché nessuno, non posso pretendere che la gente mi creda, perché io posso dire fai miracoli, devo dimostrarlo. Allora devo mettere in condizione le persone di provare il prodotto a condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Cliente preso, non lo perdi più, perché prova la donna che prova il cranberry dopo la terapia antibiotica o se la terapia antibiotica non funziona perché il batterio è diventato farmaco resistente, prova il cranberry e si rende conto che l'assunzione quotidiana nel tempo delle sostanze contenute nel nostro cranberry scongiurano la ricomparsa di recidive. Questo è un successo strepitoso non solo per il tratto urogenitale, ma anche gastrointestinale che in questo periodo siamo particolarmente colpiti per il freddo, per i virus, per i batteri e rafforza il sistema immunitario, quindi è irrinunciabile. È veramente un rimettere a nuovo la macchina, ringiovanire la macchina dal cuore alle arterie, alle vene, al metabolismo, aiuta il metabolismo. È uno spettacolo per tutto l'anno, ma in autunno diventa veramente la chiave insieme ad altri due prodotti. È un preparato alimentare così come è un preparato alimentare il curcumiele a base di curcumina che ha dimostrato essere un prezioso antinfiammatorio. Prezioso antinfiammatorio antidegenerativo, anche questo è un preparato alimentare, quindi non un integratore. È un alimento che assunto quotidianamente non lo dice Gian Paolo Tocco, l'erborista. Gian Paolo Tocco, l'erborista, dice in maniera fiera e soddisfatta, presuntuosa, arrogante, faccia lei. Mio padre diceva che l'umiltà è la dote, adesso mi attirerò le ire del mondo, l'umiltà è la dote di chi non ne ha altre. Io non credo nell'umiltà, non voglio la prepotenza, non voglio l'arroganza, non voglio la sopraffazione. Perché devo essere umile? Ho fatto il prodotto più buono che esiste in commercio perché dovrei essere umile. Ne sono soddisfatto. Ecco, non sono arrogante, non voglio denigrare la concorrenza, ma va specificato. Noi facciamo questi due prodotti al meglio, non esiste cosa migliore. Il curcumiere tra l'altro ha anche una caratteristica davvero particolare che in commercio non si trova facilmente, proprio perché ha una grandissima biodisponibilità e più volte l'abbiamo ripetuto, sul mercato si trova di tutto per quanto riguarda la curcumina. Purtroppo sì, il 90% è derivato dal petto. Un giorno faremo vedere finalmente la scheda tecnica della nostra curcumina. Perché uno dice curcumina 100% vegetale, beh, normale. No, normale no. Se il 90% Food and Drugs Administration li ha pizzicati, Food and Drugs Administration, organizzazione di controllo del farmaco e degli alimenti, ha pizzicato le multinazionali che hanno messo in commercio curcumine autorizzate dai ministeri e non entro in polemiche, do solo una notizia, ha autorizzato la commercializzazione di curcumine derivate dal petrolio. 90% delle curcumine sul mercato, il 10% è naturale, di origine vegetale. Di questo 10%, solo una piccola parte è ad alta biodisponibilità. Poi c'è una parte che non esiste nelle statistiche, perché è ancora in fase di sperimentazione, anche nostra, che porta la nostra curcumina dalle 7 alle 10 volte più biodisponibile di qualsiasi altra curcumina. Stiamo studiando una curcumina con il platino da destinare ai medici, agli ospedali, perché è citotossica, il platino è tossico, però per fronteggiare malattie gravissime si accetta anche la tossicità, ma non ne parlo perché non sarà destinata al pubblico, sarà destinata e gestita dalla medicina. Ma noi stiamo studiando una curcumina che sia una via di mezzo, il massimo dei risultati, senza controindicazioni per il pubblico. Quindi che sia curativa e preventiva, senza controindicazioni, ma molto vicina alle proprietà di un farmaco. E ci arriveremo, nei prossimi mesi ci arriveremo. Quindi che regala solo benefici, senza controindicazioni e può essere assunta da chiunque. Oggi siamo già al massimo, cioè 10 volte la biodisponibilità siamo a livelli estremi. Contiamo di arrivare a 25-30 volte più biodisponibile, vuol dire che si prenderà una compressina da 500 mg e avrò la quantità quotidiana per avere questa azione antinfiammatoria e di prevenzione contro le malattie degenerative. In questo periodo è essenziale. Abbiamo parlato di due alimenti, il cranberry, usa redberry e la curcumina, il curcumiere. Che sono poi i due preparati alimentari che sono poi i principi della vostra azienda e che nel giro di pochi anni hanno fatto un po' tabula rasa di tutto il resto, perché voi anni fa comunque avevate una gamma più ampia di prodotti, ma già questi due comunque bastano appunto per risolvere gran parte dei nostri problemi. Assolutamente, perfino il metabolismo. Noi facevamo prodotti strepitosi, in norma i nostri clienti che ci stanno ascoltando perché si sono tutti spostati su questa televisione che apprezzano moltissimo e che sono felici di aver scoperto perché è mirata, si ricordano il norma, si ricordano il drena, si ricordano tutti i prodotti che non ci sono più. Però è rimasto qualcos'altro, abbiamo qualche minuto ancora Gianpaolo, vogliamo fare un breve accenno per esempio al vero gel piuttosto al mix di erbe? Allora risolviamo i problemi dell'intestino, ma non li risolviamo alla radice, quelli li risolve il medico andando a stabilire quali sono i motivi della stipsi e curando la persona, però devo risolvere subito il problema dell'evacuazione, c'è un mix di erbe che da 20 anni sta facendo il proprio lavoro e soddisfa le persone, è un mix molto buono e vasto di erbe che ridà motilità all'intestino, quindi riporta la regolarità nell'evacuazione. Il vero gel merita una trasmissione tutta per sé perché è un lenitivo dei dolori, ma è un defadigante più che altro per le gambe e si è dimostrato particolarmente efficace lì dove ci sono questi dolori muscolari e i fremiti dati dalla sindrome delle gambe senza riposo. È un fenomeno, una particolare menta del nord del Venezuela, della Guyana ed è efficacissimo, straordinario, va utilizzato all'occorrenza, quindi non è come il curcumiele, come il cranberry che deve entrare nella nostra dieta quotidiana per darci forza, per dare al nostro organismo la capacità di fronteggiare qualsiasi aggressione. Lì si utilizza nei casi specifici, ho una stipsi, vai dal medico e vai a vedere qua ne avete uno straordinario che si occupa di intestino e risolverà alla base il tuo problema, ma se il problema è voglio evacuare perché è fastidiosissimo questa stipsi, dà problemi enormi, cominciamo a regolarizzare, poi il medico stabilirà perché hai la stipsi e come regolare il tuo intestino con i pre e i probiotici. Ecco poi ci sono anche tutta una serie di creme che si possono utilizzare, molto efficaci, ma di queste magari parleremo nella prossima puntata. Intanto diamo quelli che sono i riferimenti appunto di erbe medicali, abbiamo il telefono che è 030 70 60 447, whatsapp 391 12 90 112 www.erbemedicali.it il sito, dalle ondette gmail.com la mail e poi abbiamo anche il nostro profilo facebook che è Erbe Medicali. Esatto. Benissimo Gianpaolo, grazie come sempre per essere stato con noi e ringrazio voi amici da casa che ci avete seguito. Alla prossima puntata di Alimenti Ferma Tempo. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.